I Donnalissi sono stati protagonisti anche della notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera si è parlato praticamente solo di loro. Ma soprattutto grazie alla clip creata con Nicole Murgia. E al tocco di mano delle protesi della Murgia nella famosa Notte del Van. Sentendo Alfonso Signorini parlare di mani che toccavano. Edoardo Donnamaria ha confessato ad Antonella Fiordelisi di aver toccato il seno di Nicole. La Fiordelisi ha cominciato a piangere e a disperarsi. Sebbene piangesse, a singhiozzi, dimenticando la disperazione appena Alfonso cambiava argomento. Alla fine è saltato fuori che Edoardo ha toccato con due dita. Anzi con la punta di due dita le protesi della Murgia ma ha ammesso di aver sbagliato. In realtà c'è stata anche la clip con tutti gli abbracci tra Edoardo e Nicole. Ma entrambi si sono difesi spiegando che si abbracciavano anche davanti ad Antonella. Quest'ultima ha vestito i panni di «vittimella», come viene chiamata sui social in questi casi. Ma è chiaro che Edoardo le abbia servito su un piatto d'argento il motivo per comportarsi da vittima. Insomma, stavolta tutti i torti, in fondo, non li ha ammesso e non concesso che decida di marciarci sopra. Eppure nella notte Edoardo e Antonella si sono già riavvicinati. Hanno parlato, ma non hanno dormito insieme. Per ora non dovrebbero essere tornati insieme. Eppure Donna Maria si è pentito delle parole dette in puntata. Dopo la puntata in giardino ha detto di non volere che una puntata mandi all'aria cinque mesi con Antonella. A lei ha ammesso di aver usato frasi come «Era finita un mese fa», solo perché in difficoltà. Insomma, i fan-donnalisi possono tirare un sospiro di sollievo. Potrebbe non essere ancora finita tra Edoardo e Antonella. Ma proprio i fan-donnalisi sono stati protagonisti ieri sera. Il studio c'era una buona parte del fandom a urlare e applaudire Antonella appena apriva bocca. Poi Signorini ha chiamato al centro dello studio la fan-donnalisi più accanita di tutti. Quella che saltava e si sbracciava alle spalle di Giulia Salemi. Grazie a tutti.